Ciao a tutti, oggi prepareremo il pan di fragola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, fragole, zucchero semolato, uova, latte, olio di semi, sale, lievito per dolci, vanillina, confettura di fragole e zucchero di canna. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le fragole e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Rioniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo zucchero semolato, le uova, la farina, l'olio, il latte, il pizzico di sale, e la vanillina. E azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6. Aggiungiamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo ben imburrato e spolverizzato con zucchero di canna sul fondo del diametro di 24 centimetri. Per poter trasferire il composto adesso lo spargeremo con lo zucchero di canna. Adesso lo cuoceremo in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Completiamo la torta spennellandola con la confettura di fragole. Completiamo la torta decorandola con fragole fresche. Pan di fragole, grazie e alla prossima ricetta! Pan di fragole, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!